Le preoccupazioni dei residenti di Soria per l'impatto edificatorio e per una presunta rivoluzione di viabilità ventilata dalla variante su largo tre martiri ricevono un calmante, almeno momentaneo, dal Consiglio Comunale di ieri. La variante non è stata messa ai voti, è arrivata invece una sospensiva che ha ottenuto 16 voti dei consiglieri e mette la questione in stand-by passando per i prossimi consigli comunali e per l'assemblea di quartiere prevista mercoledì sera alla biblioteca di Baia Flaminia. Dal Comune, attraverso l'assessora della Dore, l'ingegnere Moretti, è stata illustrata una delibera che dividerà in quattro comparti l'area interessata. In questi giorni ho sentito parlare di aumento della capacità edificatoria, invece vorrei sottolineare che c'è una riduzione di 600 metri quadri della capacità edificatoria. Rispetto a quella che era la previsione urbanistica ci sarà anche una riqualificazione ambientale dell'area ex Suzuki che appunto, come ho sottolineato prima, è una delle porte principali della città di Pesaro. Ricordo a chi è in questo consiglio comunale o a chi lo era prima che quell'area è stata oggetto di ordinanze antidegrado, è stata oggetto di occupazioni abusive, quindi insomma faccio memoria di quello poi che erano state negli anni le lamentele da parte del quartiere. Presenti in consiglio comunale anche una ventina di residenti di Soria preoccupati soprattutto per una modifica alla viabilità su Lungofoglia, Caboto e Via Agostini che secondo la Della Dora non verrà modificata da questa variante. Sulla sospensiva diciamo che noi siamo con... io personalmente sono favorevole sia come singola cittadina di Soria che come legambiente perché ritengo che i temi che oggi sono stati affrontati sono molto importanti e quindi è giusto che i cittadini possono esprimersi. Poi dopo per carità il consiglio comunale sovrano deciderà come meglio crede, però il cittadino non lo possiamo liquidare dicendo abbiamo mandato una comunicazione a suo tempo e sono arrivati in ritardo le osservazioni, un po' troppo semplice no? Tutti noi credo che siamo d'accordo nel voler riqualificare la nostra bella città, l'unica cosa su cui siamo titubanti è la maniera in cui è fatta perché il progetto è molto vecchio risale al 2020, le esigenze sono molto cambiate, a differenza di magari degli ingegneri che studiano sulla nuda carta noi possiamo apportare l'esperienza di quello che viviamo quotidianamente nel traffico di ossoria per cui speriamo diciamo con questo rimando di poter apportare con i nostri giudizi dei miglioramenti sul piano di riqualifica del quartiere a cominciare dalla non chiusura di via Caboto che comprimerebbe il traffico all'interno di via Agostini. C'è stata la possibilità di parlarne e quindi una sospensione sarebbe stata quanto mai opportuna avrebbe consentito un miglior confronto e invece i residenti dovranno accettare una situazione già presa però ognuno si assume le sue responsabilità come io mi sono assunto le mie nel non aver saputo interpretare le comunicazioni relative a questa variante e poi ognuno, cittadini, amministrazione, ognuno si assumerà le proprie. Ora la discussione si sposta in un confronto con i residenti nell'assemblea di quartiere di mercoledì sera. Ovviamente non potrà essere stravolto ma sicuramente qualche miglioramento dalla voce corale che può portare l'esperienza dei cittadini può essere apportato. Io spero che il Comune possa trarre delle indicazioni utili per fare dei miglioramenti, qualche accorgimento se ancora è possibile, per cercare di accontentare un po' tutti.